ciao ragazzi ciao ragazze benvenuti bentornati in questo nuovo video allora oggi andiamo ad aprire il l'ordine che ho fatto di brochet dell'album 16 aspettatevi poi un altro spacchettamento per quanto riguarda invece i volantini perché proprio oggi sono usciti volantini e ho fatto un altro ordinino da 100 euro allora direi di partire subito allora qui troviamo due casette ok con all'interno allora il bagno doccia questa qui quella mele d'inverno troviamo il bagno doccia dal formato piccolino è da 50 ml poi abbiamo il la crema mani da 30 ml il balsamo l'ambra e il gommage per il corpo sempre da 30 ml e quindi la stessa confezione stessi prodotti li troviamo anche all'interno di quest'altra casetta che queste invece bacche fatate me l'ha ordinata una cliente per fare dei regali di natale come mi hanno ordinato anche questo set di quattro cremine mani all'interno troviamo noce di cocco mango coriandolo vanilla bourbon e fiore di cotone e salvia anche questo secondo me una confezione carinissima proprio poi troviamo un po di bagno doccia perché fa qualcosa fa parte di un set forse quello argan uno fa parte di un set qualcuno comunque vabbè mi hanno ordinato sia dei set che i bagno doccia anche singolarmente che una ragazza gli piacciono tantissimo e allora troviamo questo qui pesca e anice stellato sono tutti da 400 ml poi ne troviamo questo qui che è magnole e tè bianco argan e rosa aiuto la mia voce mi abbandona un altro argan e rosa questo qui è della linea bacche fatate scusato ogni tanto in carto poi ne troviamo uno al cocco poi abbiamo questa qui che è una crema per il corpo argan e rosa da 390 ml con appunto il formato da 390 ml ha il dosatore che a mio parere è comodissimo io ce l'ho alla vaniglia ed è veramente comodissimo poi qui abbiamo una schiuma da barba rasatura ultra delicata da 200 ml qui abbiamo una confezione di dischetti di cotone questi ce ne sono dentro 80 sono 100% cotone sono dei dischetti che sono cuciti molto bene non si sfaldano sono morbidi ve lo dico perché li ho utilizzati anch'io e ve li consiglio questi me li ha ordinati una cliente poi altro bagno doccia sempre pesca e anice stellato e poi ne abbiamo uno anche della linea mele d'inverno poi un altro bagno doccia fiori di tiare e ylang ylang poi aiuto che ho mosso qui abbiamo l'acqua micellare questa qui della linea sensitive camomile è la prima volta che me la ordinano questo contiene concentrato di camomilla selvatica è indicata per pelli sensibili ed è un formato da 200 ml poi mi tiro via questi che sono i sacchetti quelli piccolini che li ho ordinati io perché ero senza poi qui abbiamo una bb cream 6 in 1 sublimatrice 6 in 1 questa qui è nella colorazione light poi abbiamo un gommage vegetale per il corpo questo qui è sfoglia e levica con polvere di nocciolo di albicocca ci sono appunto 100% di granuli vegetali all'interno ed è un formato da 150 ml il pack è anche bellissimo devo dire poi qui troviamo una confezione che devo poi andare a formare qua abbiamo altri sacchetti che mi ha dato l'azienda con all'interno le ricevute da compilare e ci sono i campioncini ottimo un sacco un sacco di campioncini misti anche qua questi ritiriamo via poi qui abbiamo un altro sacchetto di campioncini questi sono quelli che ho ordinato io e sono quelli del fondotinta se non sbaglio è tutto zero default si del fondotinta questo qui zero default comfort poi troviamo un altro sacchetto qua ci sono tutti quelli invece campioncini della linea elixir jeunesse che appunto mi mancavano questa è la corda che fa parte di quella scatoletta che vi ho mostrato prima che devo montare qua c'è un altro sacchettino con dentro dei campioncini della linea anti age forse anche questa l'avevo presa io non mi ricordo allora troviamo una cremina mani mango e coriandolo altra cremina mani vaniglia bourbon nelle ordinate una cliente che deve fare i pacchettini per fare dei regalini dei pensierini noce di cocco poi abbiamo uno shampoo in crema questo qui è un formato da 50 ml fa parte sicuramente di qualche set della linea appunto lisciante poi abbiamo un correttore questo qui allora questo qui è della linea zero default però adesso riflette tutta la luce della ring light quindi non vedete niente comunque è il beige moyenne poi abbiamo anche una cremina eh sì una cremina mani una stilo lambra questa qui è nella colorazione me l'ho ordinata una cliente questa è la mia colorazione preferita poi abbiamo un po' di balsami lambra perché appunto la cliente deve fare dei dei pensierini quindi vediamo cosa riesco a prendere allora qui ne abbiamo quattro e sono quattro al carité poi ne abbiamo tre al cocco poi un altro al carité uno alla vaniglia uno al lampone uno alla mora e uno al mango devo fare tutti i pacchettini che vi ho mostrato vi ho fatto vedere come farli in un video al massimo ve lo linko o nelle info oppure giù comunque nelle info qua nelle schede in alto oppure giù nell'info box vi metto il link di come sono andata a confezionare i balsamo lambra poi qua c'è ancora un'altra cremina mani all'argan e rosa coi prodotti abbiamo terminato e qui troviamo tutti 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 i nuovi cataloghi che partirà al numero 17 partirà dal 23 dicembre fino al 27 gennaio ok questo è tutto in mio ordine spero di avervi fatto anche un po' di compagnia che il mio ordine vi sia piaciuto il video vi sia piaciuto se è così mi raccomando mettete un like ricordatevi di iscrivervi al canale attivando anche la campanellina se vi fa piacere e se avete voglia lasciate anche un commentino noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao